Questo video riguarda i migliori tre tester batteria auto. Il vincitore della qualità è l'Ancel B A301. Il test di avviamento viene utilizzato per testare e analizzare l'effettiva corrente di avviamento richiesta e la tensione di avviamento per verificare che il motorino di avviamento funzioni correttamente o meno. Il test di carica viene utilizzato per controllare e analizzare lo stato del sistema di carica, visualizza la tensione di carico, la tensione non caricata, lo stato di ondulazione, lo stato del sistema di carica. Il tester per batterie B A301 può monitorare la tensione in tempo reale per controllare lo stato di salute della batteria. Questo tester di carico è in grado di rilevare tutte le batterie al piombo acido da 6V e i 12V per autoveicoli, come batterie normali allagate. Due modelli di test consentono di testare la batteria in base alla sua posizione, fornire risultati di test più accurati rapidamente, sostituendo così la cella difettosa in tempo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il OB di Resource Tester Batterie. BM 550 può testare tutte le batterie da 6V barra 12V barra 24V1002000CCA, comprese le normali batterie allagate, a piastra piatta AGM, a spirale AGM o al gel. Fornire un'analisi generale dello stato della batteria e aiutarti a conoscerne lo stato in anticipo prima che si esaurisca. I risultati del test si basano sullo standard CCA. Analizzatore della batteria applicato con l'ultimo metodo di conducibilità per misurare, il tester eseguirà la scansione della batteria e fornirà un risultato accurato del test. Con il microprocessore intelligente integrato, che rende il test veloce e preciso rispetto al Midtronics statunitense. Il tasso di precisione è fino al 99,5%. Con l'analizzatore di carico della batteria BM 550, puoi testare le batterie sia all'interno del veicolo che fuori dal veicolo e persino testare le batterie scariche. Il vincitore del premio è l'OB di Monster Tester Batteria. Nuestro provador di batteria di automobili BM 550 puoi provare tutte le batterie di 612-24V100-2000CCA, incluite le inundate regolari, la placca plana AGM, la spiral AGM o le batterie di gel. Compatibili con automobili, SUV, camionette, botte, motociclette Y, ecc. Proporciona parametros basicos della batteria, come voltaie, resistenza interna, amperaie di arranque in frio Y capacità e stato della batteria Y e stato di carga. Le muestra conseglie professionali sobre si deve reemplazare o cargar la batteria. BM 550 le permette provare batterie tanto dentro come fuori del veicolo, incluso provare batterie agotate. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.